Siamo in un'altra serie italiana. Nel prossimo episodio ci vediamo. Vediamo un episodio con il nome Dobre Rano. Buongiorno. Buongiorno Priti. Buongiorno Vikram. Dove sono le mie chiavi? Le tue chiavi? Le tue chiavi? Priti non può nascere le tue chiavi. Anno, è vero. Sì, devo andare. Anno, devo andare. Devo trovare le mie chiavi. Musiamo nascere le tue chiavi. Priti, sono qui sul tavolo. Priti, su tu, nastole. Mi dispiace Vikram. Sono stanca. Perché lavoro troppo. Preparci Vikram. Sono una vena. Priti. Priti è abbastanza. Priti. Vuoi un caffè? Sì, grazie mille. Ok, ecco il tuo caffè. Dov'è lo zucchero? Ah, è qui. Priti. Priti beve il caffè. Priti beve il caffè. Priti beve il caffè. Che schifo! No, non ne. Non ne. Priti, non ne. Priti, non ne. Non ne. Non ne. Non ne. Non ne. Scusa? Ma è sale. Priti, sei molto stanca. Priti, si vieni una vena. Sì. E vorrei un caffè. Con lo zucchero. Non con il sale. Ano. A chcem kavu. S cukrem. Non ne. Priti. 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 Grazie a tutti.